... ... ... ... ... Italia, Vardoria, Gattini, Palluzzi ora si è portata in testa, poi Luciani, poi Loro Rigida, poi Gatti, poi Montico, poi Sorcionovo, poi Lampitelli, poi Corsini e poi le ho finite tutte con Luciani ancora in testa, stiamo a vedere ora il passaggio da questo momento e poi siamo ai 600 metri con Luciani, ora Loro Brigida, Loro Brigida con Gatti, Montico, al passaggio solo della campana ed è ora l'atleta della Prianza in line che si è portata in testa con Eda Palluzzi sul retirino opposto a quello che arriva che va a prendere la terza posizione ed eccoci l'arrivo con Gatti che va a chiudere in 1'31 e 519. partite con Carrer che non si fa pregare subito in testa seguita da Loro Brigida con l'atleta della menzana De Palma, De Palma, Paganelli, Rodrighese, Guerrero, Carrer, Loro Brigida, Paganelli, Rodrighese, Guerrero, Carrer, Loro Brigida, Saloni, Paganelli, queste le altre delle prime posizioni al passaggio ai 600 metri in 55 secondi con Carrer e Loro Brigida, ora che prendono un paio di metri sui pagamenti, forse due e mezzo, non si va a chiudere l'atleta della Rollsport, vado di sicure con Carrera e viene attaccata all'interno dall'Uno Brigida, e vado con l'Uno Brigida davanti a Carrer e Paganelli, 1 29 299